Buonasera, sono Maglio De Angelis, attore e direttore di doppiaccio. No, no, aspetta, aspetta. È Cresciutello, sa quello che dici, eh? Che dici? Buffo come? Beh, come? Che sei buffo tutto qua? No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia, forse sono un po' rincoglionito, ma buffo come? Buffo come un pagliaccio, te deverto? Tutti dicono che lei sia un bravissimo, un eccellente direttore di doppiaggio, qual è il segreto? Beh, io non credo che ci siano segreti, penso che, innanzitutto è discutibile il fatto che io sia più o meno un bravissimo direttore di doppiaggio, però indubbiamente qualcosa ho fatto, ma non credo che ci siano segreti, penso che ogni direttore di doppiaggio ha un suo sistema e il mio sistema è quello di cercare di mettere il più possibile al proprio agio i doppiatori. Io lavoro in un modo che può essere anche ritenuto strano, ma quando lavoro io si ride, si scherza molto, si gioca, eccetera. E mi sembra che i risultati con questo siano ottimi, io non metto mai in imbarazzo, perlomeno quasi mai, ma ritengo proprio mai, il doppiatore con critiche. Generalmente dopo la prima incisione inizio dicendo che va bene, però possiamo fare questo, possiamo rivedere un attimo quella cosa, ma comunque non ti preoccupare che va molto bene. Voi direte, ma non scoprono il trucco? No, evidentemente no, perché sono molti anni che più o meno il sistema mio è questo qui e evito di fare come fanno alcuni miei colleghi, che peraltro ottengono anche loro ottimi risultati, ma evidentemente per loro va bene per quel sistema, per me va bene questo, evito di fare molte volte, di ripetere molte volte la registrazione, perché ritengo che poi dopo si perde da di freschezza, per cui con me non accadrà mai, non è mai accaduto che un anello venga inciso 20-25 volte, però proprio non c'è. Ho diretto film, dunque ho cominciato a fare il direttore del doppiaggio nel 1981 e mi ritengo fortunato perché ho cominciato subito piuttosto con film abbastanza buoni e la fortuna è indispensabile come in tutti i lavori, mi è stato affidato, il primo film mi è stato affidato è stato un film con Sean Connery, ma non è che fosse granché, però subito dopo sono partito con film, ritengo di qualità, film come Blade Runner, che oggi è un cut movie e poi a seguire ho fatto Chi ha incastrato Roger Rabbit, che è pure quello poi dopo ha avuto un... e poi andando avanti ho fatto praticamente tutti, quasi tutti, tranne i primissimi film di Spielberg, da Indiana Jones, il numero due, ho fatto quelli di Zemeckis, Ritorno al futuro, il 2, il 3, quindi in conseguenza ho fatto Schindler's List, ho fatto venendo più avanti Soldato Ryan, adesso ricordarli così all'impronta, però era quel periodo lì, l'ultimo che ho fatto è stato l'ultimo di Zemeckis, che era quello con Harrison Ford, che verrà tra l'altro premiato qui al Festival del Doppiaggio, ho fatto, ritornando indietro, Gandhi, ho fatto In e Out, ho fatto un pesce di nome Wanda, di cui ho fatto anche i dialoghi, di molti di questi ho fatto anche i dialoghi, ho fatto Mission Impossible 1, Mission Impossible 2, insomma tanti, proprio tanti, tanti. Due film amo particolarmente, uno appunto è Blade Runner e un film che amo particolarmente è un pesce di nome Wanda, perché lì c'era, avendo fatto anche l'adattamento, l'adattamento era molto particolare, perché c'erano da riadattare delle cose e riportarle a noi, cioè mi spiego meglio, c'erano delle battute che riguardavano cose prettamente americane, quindi bisognava conservare quel tipo di humor, la battuta eccetera, però renderle attuali per noi, vere per noi. Quindi c'erano dei giochi di parola che andavano riproposti, riproposti però cambiando, ma cambiando sempre relativamente, perché io sono del parere che il doppiaggio vada fatto con il massimo rispetto dell'originale, cosa che non sempre avviene, e soprattutto nell'adattamento questo, ma anche nella recitazione. Sono molto molto spiacente, mi scuso senza riserve. Ritiri tutto? Sì, le offro una completa e assoluta ritrattazione. L'imputazione era del tutto priva di fondamento, anzi erano dichiarazioni non comprovate. È stato tutto motivato dalla mia malizia e mi addolora che qualche mio commento possa aver recato danni morali a lei o alla sua famiglia. Il doppiaggio è un lavoro, io sostengo, ma non tutti sono d'accordo con me, che richiede molta modestia. Richiede molta modestia perché non ci si può permettere di manomettere una cosa che ha già richiesto mesi, se non anni, di lavoro per essere programmata e pianificata. quindi va rispettato quello che loro hanno fatto prima. Va rispettato ovviamente mettendo poi al meglio quello che possiamo mettere noi, anche dal punto di vista artistico, ma sempre senza mai minimamente alterare quello che è stato fatto. Questo è venuto fuori perché appunto nel Pesce Nome Manda andavano ritoccate le cose, ma non ritoccate perché non ci piacevano, ma perché andavano fatte in maniera che fossero divertenti per il pubblico italiano e mi sembra che siano state. Lo stesso lavoro è stato per In Out, che era un film recente con Ken Clyne. Ecco, questo sono forse i due, i tre. No, c'è un film che amo particolarmente, però come attore quello, che è Goodfellas, dove doppiavo Gio Pesci e mi sono divertito molto, era da fare in modo molto particolare, il provino venne scelto da Scorsese personalmente. C'era cascato brutto da tagliore. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi sotto i terri, potresti mollare sotto un terzo grado. L'appartamento richiede innanzitutto una traduzione, si parte da una traduzione letterale del copione, del dialogo originale. Dalla traduzione letterale bisogna, che spesso però non è proponibile la traduzione letterale, perché la traduzione letterale parla un italiano improponibile più delle volte. Allora, a quel punto va adattata affinché quell'italiano, che è un italiano non parlato, adattata nel linguaggio. Poi va adattata per ciò che riguarda la sincronia, cioè quello che noi diciamo va messa in bocca all'attore che parla in inglese e far sì che le labiali possibilmente coincidono, perché spesso non è possibile, le lunghezze devono essere precise, le partenze, gli attacchi e i finali. In poche parole è questo. Fatti speciali che normalmente richiedono impianti, macchinari. La parola è un po' abusata, è un po' triste, siamo un po' arrangiati, perché dovevamo riproporre gli stessi suoni che ascoltavamo nei dialoghi tra la navetta e Houston, eccetera, eccetera. E cambiavano continuamente perché loro, a seconda delle distanze, a seconda del funzionamento, eccetera. E niente, noi abbiamo fatto ricorso a cose stranissime, per esempio a volte Chevalier, che doppiava Tom Hanks, parlava in sala con un walkie-talkie, altre volte parlava con un piccolo megafonino artefatto, lasciando però la porta della cabina di regia aperta, per cui il suono dentro veniva in un certo modo distorto, che però riproduceva esattamente quello che era il suono dell'originale. Salve Houston, qui Odyssey, è un piacere di sentirvi. Altre volte registravamo portando il microfono in cabina di registrazione, per cui era ancora un altro suono. Insomma, grazie anche all'inventiva, devo dire, il nostro fonico, che Fabio Benedetti si ha detto la sua gloria, è venuta fuori una cosa molto interessante, un altro aneddoto rapidissimamente di cose che accadono, che vengono bene, non dico per combinazione, però una componente di fatalità. Quando facevamo Blade Runner c'era Michele Cammino che stava spesso in giro, per cui era piuttosto stanco spesso. Abbiamo pensato di sfruttare questa cosa, l'abbiamo sfruttata nel film che lui racconta, nel film che poi nella versione rivista da regista non c'è più il racconto, però quello che abbiamo visto tutti è quello con lui che racconta. Lui aveva la voce un po' stanca, allora abbiamo usato questo espediente, che poi non ha fatto altro che far sì che venisse esattamente come l'aveva fatta Harrison Ford, cioè abbiamo avvicinato molto il microfono a lui, che con la voce stanca per cui si appoggiava all'ingio e faceva una voce piuttosto misteriosa, che era esattamente quella che usava Harrison Ford nel film, Blade Runner, e così siamo riusciti a sfruttare il lato negativo, cioè la stanchezza di Michele Cammino, per fare una cosa che invece veniva da un effetto stupendo. Guff era stato là e l'aveva lasciata vivere, per quattro anni aveva pensato, si sbagliava. Tyrell mi aveva detto che Rachel era speciale, non aveva la data di termine.